Signore e signori, bentornati su Bricioli di Storia. E adesso, bentornati, ci fermiamo un attimo e contempliamo un quadro che ha segnato un'epoca. Beh, oddio, io non è che mi sento proprio trasportato dall'entusiasmo. Ma allora, magari proprio dall'entusiasmo no. Neanche l'emozione, il bricolo. Però il ricordo, sì. Tanto vi faccio vedere le dimensioni. Guardate qua quanto è grande. È un 70x50. È un quadro grande. È un quadro grande, ma molti di voi già avranno ricordato di che cosa si tratta. L'avranno ricordato probabilmente dal titolo che abbiamo messo. Perché questo è un Teomondo Scrofalo. O meglio no. Però, parliamo prima della parte televisiva. Teomondo Scrofalo, questo quadro in particolare, diventò famoso grazie a Ezio Greggio nel drive-in che andò fino all'88 dal... Dall'83 all'88. E nell'asta tosta, alla fine di ogni asta tosta, lui presentava un Teomondo Scrofalo. A volte a testa in giù, a volte in maniera strana, raccontando qualcosa dell'autore, dandogli anche dell'alcolizzato, cose del genere. Per poi ascoltare qualcuno che diceva 1500 e dire, hai detto 1500, ha giudicato. E aggiudicare a questa asta questo Teomondo Scrofalo. Orrore, 1500 erano in lire. In lire, sì. Quindi vedeva 1500 lire, anche che voleva un po' di più, però era proprio poco. Questo ha reso famoso questo quadro. In una casa d'aste ho visto che facevano un corso e spiegavano che dire che è un Teomondo Scrofalo, un po' come dire che è una crosta. Quindi è rimasta questa definizione, forse è nata allora o precedente, questo non ve lo so dire, perché ci sono dei misteri. Tipo, dov'è l'originale? Ecco, per onestà dobbiamo anche confessare che questo non è purtroppo l'originale. Ah, non l'abbiamo detto? No, non è l'originale. È una stampa fatta bene su tela. Volevo averla, volevo appenderla, un po' come un oggetto che fa parte di un film, una prop. No, perché c'era la speranza che potesse essere quell'originale che usava Enzo Greggio. Eh no, neanche, è leggermente più grande, è leggermente più grande, quindi neanche quello. È usato una copia, quindi questo va giovedì sicuramente tra gli esperimenti. Ma no, ma che esperimenti? Questo è un'opera d'arte, cioè questo è drive-in, ha segnato un'epoca. Sentiremo dopo la regia cosa dice. No, questo va il sabato, questo va il sabato. Non siamo mai visti i due presentatori che litigano in diretta. Comunque, in realtà, è un Gian Battista De Curtis. Sì, che uno dice, beh, sarà Totò, De Curtis è Totò. Invece no. Invece no. Non si sa perché abbiano preso proprio questo quadro per ridicolizzarlo da un certo punto di vista. Forse è l'espressione un po' da beone del protagonista del quadro. Non lo so, in realtà, gli diamo dell'ubriacone, ma non sappiamo se il bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto. Insomma, la bottiglia di vino c'è, il bicchiere c'è, il personaggio... Buonciotte rosse, insomma... Sì, insomma, lascia pensare, effettivamente, che... Ma abbiamo scoperto che questo Gian Battista De Curtis comunque ha fatto qualcosa. Certo, è un artista vero, è nato nel 1860, vissuto fino al 1926, che fosse pittore e scultore va bene, è una cosa che succede. Ma in più è anche musicista, è napoletano, quindi corrisponde il nome, non è Totò, ma il nome è comunque di tipo napoletano, di origine napoletana. Ed è così famoso, è autore di una famosissima canzone Torna sul Riento, quindi è un personaggio importante, non è da sottovalutare. Assolutamente. Il quadro non è la fine del mondo. E allora, il quadro è vero che non è la fine del mondo, però sono quei quadri che ti rimangono nella testa proprio perché hanno avuto una seconda storia. Io ne ho visto un altro, sempre di De Curtis, che è un bambino, mi pare pescatore, e non ti dice niente. Questo ha tanto da dire, cioè Teomondo Scrofalo, cioè è un nome, una garanzia, per chi ha vissuto gli anni 80 e il drive-in. Quindi tutti i sabati sera lui aveva uno spazio. Poi ripeto, perché proprio lui, mi piacerebbe saperlo. Se è stato un autore, se è stato... Telefoniamo a Ezio e chiediamo a noi. Certo, sicuramente. Mi sembra più che giusto e legittimo farlo. Quindi, con questo abbiamo raggiunto un estremo stranissimo, vi abbiamo apportato qualcosa che ha fatto una doppia storia. Sì, doppia, sicuramente. E quindi, condividete, mettete un like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, ed è una cosa molto grave. Sì, se ne viene una colpa. Sì, assolutamente. E su questo noi vi ringraziamo. Salutiamo. Salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao.